Massacri, stupri di donne e violenze sui bambini, una situazione drammatica quella che sta attraversando il Congo che ha spinto Francesco Barone, docente di pedagogia all'Università dell'Aquila, a lanciare l'appello a nome del premio Nobel per la pace 2018. Denis, medico ginecologo congolese che opera in un ospedale della fondazione Pansi, insignito anche di un altro premio attribuito lì dal Parlamento europeo. Il medico vive in una struttura protetta, considerando che il Congo è governato dal regime militare, è incaricato Barone di farsi portavoce del messaggio di pace, una vera e propria missione per la comunità internazionale, quella che il docente sta portando avanti. Sì, io ho avuto modo di incontrare il premio Nobel per la pace 2018 nell'ultima missione che ho fatto a Goma con altri volontari, ho avuto l'onore di incontrare Denis, il quale mi ha pregato appunto di diffondere questo documento che è un documento originale in cui mette in evidenza la difficile situazione e la precaria situazione in cui si trovano i cittadini della Repubblica Democratica del Congo. La situazione è una situazione che mette in risalto massacri, torture, mette in risalto appunto la deprivazione dei diritti fondamentali in cui vivono donne, uomini e bambini del paese. Lui appunto è molto sensibile rispetto a questo aspetto perché come è noto il dottore si è impegnato nel corso degli anni per la difesa e per la cura di milioni di donne che erano state violentate, lui è un ginecologo e comunque ha attivato, ha aperto questa fondazione che è la Fondazione Pansi in cui accoglie tante persone che vivono in condizioni di precarità e di marginalità. Il professor Barone da 21 anni compie missioni umanitarie, finora ne ha fatte 51 tra Congo, Ruanda, Burundi, Senegal. Questa sera racconterà la sua storia nella rubrica Vivere la vita di Onda TV in Onda alle ore 22.